Questa storia, quello che è successo venerdì con quella sentenza, era noto e scritto nella pietra. Sì, diciamo non è stato sorprendente. Perché il 4 ottobre la Corte di Giustizia Europea ha detto esattamente questo, che non si può definire una lista di paesi sicuri o non sicuri, perché quei paesi, parliamo del Bangladesh, in teoria c'è una forma di, non dico democrazia perché c'è una dittatura militare, ma insomma ci va il turismo, diciamo così. C'è il turismo, quindi uno pensa che sia sicuro, ma non è così, perché ci sono un sacco di problemi a livello di territorio, per cui tu non puoi dire che quello è un paese sicuri. Idem per l'Egitto, se c'è una paese... Ma poi la gente ha sempre emigrato in cerca di nuove opportunità, e noi bisogna dargliele. Allora, tutta questa storia dell'Albania, oggi cosa succederà in questione dei ministri? Proveranno a trasformare norma primaria, cioè un decreto del governo, e quindi non più un decreto interministeriale, che ha un valore inferiore, in un decreto del governo. Quindi, ma siamo alle solite, perché tu non puoi definire questa cosa nel paese sicuro o non sicuro. A prescindere dal 4 ottobre della Corte di Giustizia Europea, tutto questo nasce dal decreto cutro sull'immigrazione, quando il governo ha deciso che doveva fare le espulsioni. Siamo d'accordo che bisogna fare le espulsioni, perché tu devi tenere quelli che vengono in cerca di opportunità e devi rimandare indietro quelli che sono qui per delinquere. Ce ne sono tanti che arrivano proprio dai paesi del Nord Africa, che cercano che vengono qui proprio anche per spaccio. Quindi, siamo d'accordo che bisogna fare le espulsioni, ma queste espulsioni bisogna farle in un altro modo, con l'Europa. Allora, il decreto cutro, un anno fa, quando successe cutro, cosa diceva? Diceva, acceleriamo le procedure di riconoscimento per i permessi, eccetera, li mettiamo nei CPR quelli che non hanno titoli e li rimandiamo indietro. Anche lì, in lista di paesi sicuri. Già su quel decreto la magistratura italiana ha detto che non si può fare, quindi è una somma di cose. Arrivo alla tua domanda, scusa se l'ho fatta lunga, l'Albania. L'Albania ha sempre... È un'idea, io non voglio dire che non sia un'idea, tant'è che l'Europa, il Consiglio Europeo, parla di queste soluzioni innovative e tutti guardano... Questi hub, diciamo, esterni. Gli hub di ritorno, però. L'Albania è un centro di identificazione, non è solo di ritorno. Il ritorno vuol dire che tu hai già identificato nel paese dove sono andati, hai stabilito se hanno diritto o meno e hai stabilito che devono essere impadriati. Sono cose, un punto di diritto, diverse. Allora, tutto questo per dire che l'Albania mi dà tanto il sapore di essere una parte importante, di una narrazione che questo governo vuol fare, che ha un sapore molto populista. di questo populismo appartiene anche il vittimismo che vediamo in continuazione. Ormai è proprio un racconto settimanale che si sviluppa secondo questi criteri. Ecco, perché era chiaro che l'Albania non potesse andare così. Devono cambiare qualcosa. Probabilmente farne solo un centro di espulsione, ma allora tu li prendi in Italia prima e poi li metterà in attesa di mandare. Però tutta la discussione adesso si sta, come dire, concentrando sui paesi cosiddetti sicuri, perché poi questo è il tema di rimente. Quando la Presidente Meloni dice sapete che vi dico, allora la notizia è che non possiamo espellere. Non è vero, perché le espulsioni le stiamo facendo. Io vorrei però, aggiungo una nota di cronica, ricordare che la Germania, così abbiamo il quadro più completo, ha rimandato alcuni migranti in Afghanistan. Pericolosi. A accordi con la Siria, con il Kenya, con l'Uzbekistan. Quindi quando parliamo di paesi sicuri, poi bisognerà trovare anche, come dire, uno standard che valga per tutti. Questo tanto per capire.